ciao ragazzi bentornati qui con farming simulator e la north frisishmarsh come potete vedere siamo già tutti in filo il mio convoglio è pronto perché inizia la grande vendita dell'insilato c'è il prezzo che è buonissimo e vediamo di farcela entro notte a vendere tutto stensilato siamo intorno ai 3 milioni 3 milioni 600 mila vediamo quanto ne possiamo vendere e mettiamo subito in funzione passiamo a partire il primo perché ho visto che più o meno dovrebbe care intorno ai due milioni e mezzo qualcosa del genere due milioni e mezzo che a me mi porta a comprare le due produzioni che voglio io oltre al fatto della produzione mi compro anche i frutteti frutteti che avevamo visto già ieri devo vedere infatti il nastro non è non va affatto bene perché devo spostarlo così che lo mettiamo bene per tutti sia posto frutteti che nella puntata di ieri abbiamo visto più o meno dove andare a posizionare tutti i frutteti o come posizionarli alla fine mi sono deciso di metterne uno per tipo e poi vediamo e poi un'altra cosa che voglio vendere anche la legna che abbiamo fatto perché ho visto che anche quella c'è il prezzo buonissimo addirittura beccheremo altri due milioni anche con quella faremo in 24 ore faremo intorno a 5 milioni e mezzo 6 circa che ho già dove so già dove spendere tutta questa roba qua ragazzi so già dove andare a spendere i 6 milioni perché tutti sei spento adesso faccio il carico e poi dopo andiamo a vedere perché ho iniziato anche a registrare i percorsi o per meglio dire mi sono registrato un piccolo percorso come come le più o meno dove voglio allineare il layout dei frutteti allora ho registrato un percorso con autodrive al quale mi voglio allineare per stare per farli venire più dritto possibile non c'è un motivo particolare perché li voglio dritti tranne che per quello che più dritti sono meglio mi viene a me impostare un percorso autodrive così che non c'è bisogno di fare avanti e indietro basta metterne uno dritto poi tutti gli altri si adeguano a quello ok tutto senzilato lo portiamo al mercante bestiame che lo vuole lui e adesso vi faccio vedere anche il prezzo stimato di quello che dovrebbe venire fuori ora non calcoliamo quello che ho anche dentro il fermenter perché quello è un altro però siamo intorno ai 2 milioni e mezzo vedete qui adesso ne ho un un po dentro al fermenter che vedete che su 800 mila io adesso voglio vendeste 3 milioni e 4 e poi vedo come mi metto e poi lasciamo perdere la legna che adesso io ne ho vediamo un po dove ce l'ho tutta sta legna maggior parte è qui dove c'è il nostro boot storage sono 963 mila litri di legna sono quelle che ho tagliato e anche questa becco due milioni e sei due e mezzo e due sei siamo intorno ai cinque milioni cinque milioni un altro milioncino potrei prendere tra l'additivo e i pallet se il prezzo aumenta in salita vediamo come si è messo il multistrato vedete che i prezzi sono in salita questo adesso di nuovo in discesa nel momento in cui va in salita che superiore che diventa bello verde bello fuorescente 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 diceva una volta nominico nel momento in cui diventa bello verde andiamo a vendere questa roba qua così che facciamo due soldi vediamo i nostri aiutanti guardate un po tutti in fila per i fili indiani il primo secondo me già quasi arrivato devono arrivare qua sotto il primo si vediamo più ecco il primo i primi soldi arrivano pronto anche l'altro per fortuna che il trigger lì è bello grande c'è bisogno ogni volta di fare la marcia indietro meno questo allora questo torna già indietro questo sta scaricando il primo che viene qua e l'altro e poi ci sono i due camion uno dietro l'altro poi c'è l'altro ancora e c'è un bel via vai per adesso vediamo mettiamo il caso facciamo una bella visual interna se si sblocca eccolo qua beh finalmente si è aggiornato la visual interna a volte ti da dei piccoli blocchi ok loro adesso vendono 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 fin quando il nastro è lì in funzione che non che pesca bene non dovrebbero esserci dei problemi voglio solo vedere i camion se si mettono in fila per scaricare anche loro il nostro convoglio convoglio di silato vabbè allora facciamo che andiamo a vedere la legna possiamo anche vendere la legna però vi faccio vedere prima come ho registrato il percorso o come li voglio allineare ieri abbiamo visto più o meno come andarla a posizionare e cosa e come e dove andarla a posizionare invece oggi vi faccio vedere questa cosa qua che questa è la mia letta e la mia lettera la mia linea di allineamento voglio più o meno allinearmi a questo sto solo un pelo in qua e poi questa è l'altra la mia linea vi faccio vedere più o meno come voglio andarli a mettere qua ma prima devo avere i soldi ragazzi altrimenti non possiamo fare mica niente production frutti ti allora vediamo un po' tanto ve ne faccio vedere uno mica lo devo montare uno qualsiasi allora vedete mi metto in linea più o meno con questo più o meno la linea qua se ci fate caso adesso non si vede ma più o meno siamo a centro della nostra rete no allora se io mi metto qua siamo più o meno in linea questo lo metto centrale vedete la linea con ops la griglia del coso mi metto così e una volta che li metto dove almeno se loro sono allineate dovrebbero venire tutti dritti per dritti senza darmi nessuno un problema sto coso qua in mezzo che ci fa mi sono dimenticato sto mezzo tronco aspetta che me lo mangio che comunque ho altri 200.000 litri di di cippato che sembrano pochi ma sono altri 200.000 allora vediamo il convoglio com'è funzia sono stanno il primo è già tornato e ha già caricato il secondo è già qui vediamo adesso a un certo punto non ci arriva più il nastro infatti non ci arriva più vediamo allora più lungo di così non possibile direi che mettiamo qui dove arriva arriva altrimenti dopo lo aiutiamo con questo ed ecco come impostare un paio il convoio dobbiamo vedere che probabilmente si sarà già pronta l'erba ad andare a tagliare sui campi vediamo no manca poco questi qua vanno tagliati sarei per comprare anche il 14 voglio comprare il la parcella 106 qui per andarci a mettere la produzione del ghiaccio e voglio comprare anche l'altro peschereggio che metteremo qui perché voglio comprare anche lui così ne ho due di peschereggi tanto peschereggi non è che un po' di diesel tutto il resto lo fa lui l'unica cosa che con la fabbrica del ghiaccio possiamo mettere anche un booster ed ecco come impostare il nostro bel percorso autodrive ecco qua per chi di voi non è a conoscenza di come andare a fare un percorso autodrive con i nastri facciamo se la solita funzione carica e consegna mettiamo sopra dove andare a consegnare in questo caso sfuso silo 1 sotto mettiamo il punto vendita e in semi andiamo a mettere una cosa qualsiasi tanto non è che deve caricare lui è il nastro che ci butta dentro quello di cui abbiamo bisogno che significa che o ci buttiamo dentro il mais o ci buttiamo dentro l'insilato per lui è uguale non cambia niente andiamo a caricarlo qua il nastro se non ce la facciamo con uno adesso ci proviamo con due così uno butta qua e l'altro pesca mettiamolo qui ok questo pesca di qua e butta dentro adesso devo spostare un pelo questo qua perché altrimenti è troppo avanti mettiamo un po' così ok l'insilato va ragazzi l'insilato va beh questo è già il secondo viaggio che abbiamo completato ne caricano quanto alla volta allora sono 60 e 60 questo ne carica 34 e sono 150 gli altri ne caricano intorno a quanto fanno vedere 30 dov'è allora questo ne carica 37 no vende al porto no allora allora questi ne caricano 50 50 ne ho due di questi ne ho due camion con 60 ciascuno e sono 220 ho un rimorchio piccolo che è quello da 34 e sono c'è 250 più quello da 37 circa più o meno 300 litri a viaggio adesso li controlliamo tutti perché non vorrei vendita qua mercante bestiame non vorrei che alternano perché non devono alternare mercante bestiame mercante bestiame ci sono tutti sì è mercante bestiame vedete carichiamo 300 litri alla volta calcolando che abbiamo qui quanto erano 3 milioni qualcosa 3 milioni e 6 non sbaglio beh 600 mila abbiamo già quasi venduti vediamo se ce la facciamo in questa puntata qua o altrimenti la faremo nella prossima io direi che possiamo qua andare a piazzare il nostro primo frutteto anzi no posizioniamo il peschereggio così i frutteti li facciamo poi in un'unica puntata peschereggio peschereggio construction production qua peschereggio che ci costa 700 mila il primo posto per chi di voi non sapesse il primo posto è qui sulla not free smart abbiamo due posti per il peschereggio il primo è qua e il secondo è qua fate attenzione nel momento in cui andate a metterlo di allineare vedete la scaletta che c'è qui che va verso il mare si allinea benissimo con il buco che c'è nel peschereggio vedete nel momento in cui questo questo qua vedete qua non so se si vede vediamo così così è meglio nel momento in cui questi qua sono allineati certo la barca però la teniamo in acqua lui è al posto giusto e questo è il posto del secondo peschereggio che noi adesso abbiamo messo come già detto il primo è questo qua anche qui abbiamo allineato il buco con la scaletta la stessa cosa facciamo qua adesso registriamo i percorsi così che colleghiamo anche questo bagaglio qui e poi andiamo a vedere di cosa ha bisogno perché il peschereggio ha bisogno di diesel un po' di pallet vuoti manutenzione ed elettricità la carica elettrica gli arriva in automatico e quello siamo a posto il diesel glielo dobbiamo portare e la manutenzione gli arriva in automatica allora un po' di pallet e un po' di diesel addirittura questo ha già del diesel 10.000 di diesel già ce l'ha bene in posto allora possiamo metterlo in funzione no mi mancano i pallet i pallet vuoti il ghiaccio cosa che vi dicevo il ghiaccio ci dà un 15% in più di tutto che significa che dobbiamo andare a fare ghiaccio solo che per la produzione di ghiaccio ops sbagliato produzione ghiaccio ci vogliono un milione e mezzo se non sbaglio se non sbaglio se non sbaglio dov'è produzione ghiaccio che poi ghiaccio fa anche i gelati e compagnie varie ci vuole un milione e mezzo un milione e mezzo che ho scoperto c'è un altro posto il posto adatto sulla not free smart per la cosa del ghiaccio è la particella 106 particella 106 che troviamo qua sopra sopra il campo vicino accanto al campo 42 che è bello enorme anche questo e qua ci va la cosa del ghiaccio ci vuole un milione e mezzo dobbiamo vendere un po' di insilato a tonnellate anzi no un po' viaggia no? questi sono già scarichi sono ok ah il John Deere ha iniziato il terzo viaggio questo qua è quello davanti vediamo come siamo messi ok allora io dovrei avere il furgoncino questo guardate un po' proprio lui che vado a caricarmi un po' di pallet un po' di diesel e anche un po' di pallet così mettiamo in funzione anche se allora tu puoi andare qua e ci dovrebbe essere quello dove è il mio camion era 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 vediamo continuano a caricare ma funziona alla grande qua ho bisogno di pallet che vi vada a prendere vediamo se ne ho in magazzino di pallet pallet vuoti sì ce li ho prendo dal magazzino manco per andare in stegheria oh sono le tre di pomeriggio e sembra che sia mezza notte già allora carichiamo qui dal nostro nel nostro magazzino centrale allora ho bisogno di pallet vuoti qua ah sì autobloccante barili cartegianica carta cartone cassetti di legno quante ce ne sono dieci facciamo otto otto va bene così ne porto tre a quello vecchio e cinque a quello nuovo continuo la vendita vai 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 allora vediamo un po' e qui non voglio scaricare solo tre dai dai ok basta ok basta eh qua il percorso verrà un po' un po' difficilotto però vediamo di più è caricare scaricare secondo me non è un problema anche il diesel scaricare il diesel non sarebbe un problema però dobbiamo vedere il percorso lo registro con il camion piccolino così che diamo un po' più di strada c'è un po' più di spazio con quello siamo meno meno ingombrandi perché ci sono i cartoni fuori qui aspetta che me li carico me li tiro via da qua allora li portiamo direttamente al magazinus se avessi i soldi andrei a cambiare anche ste 5 paleoliche che 5 paleoliche che producono corrente elettrica di conti è una gran bella cosa ok tu sei a posto quello piccolino è arrivato questo oh qua c'è traffico 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 probabilmente il nastro non prende più immaginavo quasi non ho capito perché si spengono ste cacchi nastri le odio io dai facciamo partire un altro giro un altro viaggio poi facciamo partire quest'altro giro che poi il giro finisce con lui che sarebbe il terzo già che abbiamo fatto e inizia il quarto con il John Deere 700.000 l'abbiamo già spesa avevamo intorno a 900.000 quando abbiamo iniziato questa puntata qua calcolato che 750.000 l'abbiamo speso per il peschereggio vediamo dove sono dove è la mia scontabilità allora 831.000 le costruzioni cosa abbiamo costruito vabbè qualcosa abbiamo costruito vendita fino adesso entrata dal raccolto siamo a 413.000 reddito dei contratti sono quelli che abbiamo beccato tutti quelli coltivazioni che abbiamo fatto 160.000 salari 11.000 altro 30.000 14.000 consegne e compagnia varia comunque tutta l'acqua che consegniamo con l'acqua e quella roba l'elettricità che consegniamo a destra e sinistra la andiamo a pagare vedete che abbiamo più o meno quei 70 80.000 euro al giorno di spese 831 che è sicuramente il peschereggio vabbè ragazzi direi che questa puntatina la chiudiamo qua noi ci vediamo alla prossima sempre più con la marsh dove continuiamo con la maxi vendita dell'insilato dobbiamo svuotare il silo ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao